L'aspartame, dolcificante comunemente utilizzato da circa 40 anni in migliaia di prodotti di consumo in tutto il mondo, è stato dichiarato possibile cancerogeno. L'annuncio del Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiunge un peso decisivo alla controversia che accompagna questa sostanza chimica da diversi decenni. Il gruppo di lavoro ha classificato l'aspartame come possibilmente cancerogeno per l'uomo, cioè gruppo 2B, sulla base di prove limitate per il cancro negli esseri umani, ha detto la dottoressa Mary Schauber Berigan. Si tratta del terzo livello di gravità dopo i probabili cancerogeni come la carne rossa e il glifosato e le sostanze classificate come cancerogene per l'uomo, come l'alcol e il tabacco. La conclusione principale del panel è stata che non ci sono prove convincenti da dati sperimentali umani che abbiano l'aspartame tra gli effetti avversi dopo l'ingestione entro i limiti stabiliti dal comitato precedente. Il comitato ha riconfermato che il livello di assunzione giornaliera accettabile è di 40 mg per kg di peso corporeo, ha aggiunto Francesco Branca dell'OMS, precisando che c'è una terza via oltre alla scelta tra bevande zuccherate ed edulcorate, quella di bere acqua.